Oggi parleremo dell'altra faccia della medaglia, dello sport. Uno sport in particolare, mi riferisco al rugby, che è molto radicato proprio nel territorio sannonatese e mi pregio di avere in studio un appartenente al Senato Accademico del Rugby, che è Luigino Zecchinell. Buonasera. Benvenuto, Luigino. Allora, che cosa significa essere appartenere al Senato Accademico? Quale ruolo ha e cosa fa? Che cosa significa essere senatore del rugby San Donato? Il Senato è un'istituzione nata nel 2000 ed è un gruppo di persone del mondo del rugby che non si occupano di quello che succede in campo, bensì di quello che succede attorno. Perché il rugby esiste? Quali sono i suoi valori? E quali sono le tradizioni, soprattutto nel nostro ambiente sandonatese, che meritano di essere conservate in modo che le radici diventino sempre più forti. Per cui ci diamo una serie di iniziative su questo obiettivo. Quindi, ho detto giustamente, conosciamo l'altra faccia, l'altra faccia della medaglia dello sport, uno sport conosciuto, uno sport che è fondato su valori davvero molto importanti. Ma chi, meglio di me, oggi lei, il nostro senatore appunto del rugby San Donato, può dirci quali sono i valori su cui si fonda questo sport? È uno sport che, visto così, sembra uno sport rude, uno sport violento, dove si può fare di tutto. Invece è uno sport che è giusto il contrario, le regole sono molto severe, il rispetto dell'avversario è grandissimo, perché ci vedono delle scene dove una persona, se non rispetta un giocatore, non rispetta l'altro, può fare all'altro veramente del male, perché è uno sport di contatto. Dunque, la lealtà. E anche di contatto fra Marc Antoni, ma abbastanza, voglio dire, non sono quattro esilini. Certo, allora, se non si rispettano le regole, prima di tutto, se non rispetta chi fa rispettare le regole, è l'arbitro, non si potrebbe giocare a rugby. E soprattutto è uno sport che si fa assieme. Osservate la mischia, tutti vedono la mischia, questi otto uomini contro... È bella da vedere, perché chi segue, insomma, chi bazzica anche nei campi, sono belle azioni da vedere. Non si può fare di tutto, però è l'esempio che come si assieme, stretti assieme, si vada assieme verso la meta. Ed è bella questa immagine, no? Molto bello, sì. E io sono voluta partire un po' da queste immagini, far capire che cosa è il rugby, che cosa c'è dietro, quali sono i valori su cui si fonda, perché soprattutto la società, stanno in attesa, insomma, che conosco per vicinanza, è una società che collabora, una società che conta sull'aiuto da parte, insomma, delle famiglie, perché non ci sono solo i giocatori, c'è tutto un corredo che sta intorno, che è fatto appunto dalle famiglie dei giocatori e voglio arrivare ad una figura importante, ad una figura importante nel rugby, che è la donna, la donna che è molto rispettata ed amata ed in particolare Luigino ad una donna, a Virginia. Virginia è la moglie di Luigino, che appunto per anni è stata una collaboratrice, diciamo, della società sanonatese ed ora c'è un premio, un premio del quale è stato fatto la prima edizione, che si chiama appunto il Foulard di Virginia. Però voglio che ve ne parli Luigino direttamente, spiegando anche un po' perché nasce questo... La storia viene da lontano, perché come diceva mia moglie ha seguito il rugby, da quando ahimè ha conosciuto me e il rugby. Poi io sono nato, ho cresciuto in via Sabioni e sono nato via Sabioni e la via da rugby, perché il rugby è stato portato da uno studente in via Sabioni. Nel 1985 mia moglie ha ricevuto dalla Federazione Italiana Rugby, a mezzo del tesoriere che era il dottor Adriano Pilla, una testimonianza d'affetto che era un fulare in seta rappresentante una scena di rugby, anzi è una mischia. Lei era stata molto stupita, è un dono che ha amato tanto, perché era una grande riconoscenza in un mondo maschile, ricordarsi così di una donna, non era facile. E veniva questa roba da Roma. L'ha sempre conservato, mia moglie è mancata giusto quasi due anni fa, io ho trovato il suo fulare tra le cose più care che aveva e ho pensato in quel momento che se si voleva ricordarla si sarebbe potuto riproporre per una donna, per alcune donne sandonatesi, lo stesso piacere che aveva avuto lei questo riconoscimento. E il 16 aprile abbiamo deciso di dare questa testimonianza, che è brutto dire un premio, è una testimonianza di grande affetto a delle donne sandonatesi che hanno fatto sì che questa società sia diventata una società di eccellenza. Davvero un riconoscimento, come giustamente dice lei, Luigino, per il ruolo della donna all'interno della società. Io vorrei ricordare le sei premiate che sono Rosanna Pacifici, Fanny Torresan, Sergia Salmaso, Elide Pedron, Orietta Cibin e Maura Grando. Spero di non aver dimenticato. No, 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 è il passato. Se avete notato le prime due portano dei cognomi importanti. Pacifici e Torresan. E lo stadio Torresan. Ecco, inutile spiegare chi sono queste due donne. E l'ultima, che è Maura Grando, è il futuro. C'è l'Orietta Cibin, che è l'attuale vicepresidente della società. Insomma, una donna che è vicepresidente di una società di maschiacci non è una cosa da poco. Complimenti, complimenti. Quindi questa è la prima edizione, vero, Luigino? E contate di ripeterla? Sì, l'idea poi è quella di ripeterla, se riusciamo, l'8 marzo. Vorremmo sposare l'8 marzo, festa della donna, con il rugby che si ricorda delle sue donne. Molto bene, grazie a Luigino Zecchinal per essere stato qua con noi e complimenti per questa lodevole iniziativa.